Ricordo di essere partito da un assunto molto diffuso. L'olocausto è un argomento sul quale ho concentrato le mie attività di ricerca. L'olocausto è un elemento fuori dal comune, un elemento di rottura, una deviazione rispetto a quella che viene definita la storia della modernità. Poi ricordo che ad un certo punto ho avuto una fase proprio di eureka, quando mi sono reso conto che l'olocausto non era un quadro del mondo separato da tutto il resto dell'arredamento, dalla sua cornice, ma che era una finestra sul mondo, una finestra attraverso la quale si potevano osservare degli aspetti della modernità, della civiltà moderna, che spesso vengono ignorati o dai quali distogliamo lo sguardo. Non li prendiamo in considerazione, non li notiamo. Se ricordate l'espressione utilizzata da Albert Woods, rilevanza topica, tutti questi aspetti escono dai confini della rilevanza topica e pertanto non vengono notati. Ho ricordato questa mia esperienza perché oggi vorrei affrontare un aspetto con voi, vorrei affrontare l'argomento dei rifugiati e dei profughi, che da questo punto di vista non rappresentano un fenomeno fuori dal comune da interpretarsi in base alla concatenazione di eventi e alle coincidenze dei fattori speciali, ma sono una sorta di finestra su quella che possiamo chiamare modernità liquida, sulla mondializzazione, su quella che io definisco la pienezza del pianeta, pienezza del pianeta che non interpreto nella sua accezione geografica o demografica, ma nel suo senso sociologico più puro. In altre parole, quello che voglio sottolineare è che, indipendentemente dall'importanza dell'argomento dei rifugiati, il vero potenziale a livello di ricerca sociologica consiste nel guardare attraverso la finestra dei rifugiati al resto del mondo, per comprenderlo meglio, un mondo che contiene i rifugiati come parte integrante. Ora vorrei passare ad un'altra metafora.